Io non lo reggo più, io non lo sopporto più, che intervenga qualcuno, che qualcuno faccia qualcosa non lo reggo più, Ferrero, non lo sopporto più. Allora, il pagliaccio ieri sera, perché comunque uno che dice delle cose e poi non sono quelle, è un pagliaccio. Come nella politica, come in altri lavori, anche in questo, Ferrero è un pagliaccio. Oltre a tutto il resto che comunque conosciamo, che ha fatto nel corso di questi anni, adesso, ieri sera, aveva rilasciato, dove io ci ho fatto comunque anche un post, ho fatto praticamente questo mio video dove lui diceva Sport Italia, che sicuramente, sicuramente domani sarebbe arrivato a De Frel, e stanno comunque anche lavorando per portare anche una punta e un esterno. Questi devono essere i colpi che devono essere messi a segno oggi, mi viene anche da balbettare, devono essere messi a segno oggi, e nessuno di questi, alla fine, è arrivato. Perché è arrivata la notizia che De Frel va verso Sassuolo. Quindi lui era sicurissimo che De Frel oggi sarebbe arrivato a Genova, avrebbe firmato comunque per la Sampdoria e la sua decisione sarebbe stata questa. Queste sono state le sue parole. Le parole, le parole del pagliaccio. Così non è stato, ma io capisco De Frel e comunque lo capisco perché comunque l'anno scorso era già qui, era già la Sampdoria, non è stato comunque riscattato, adesso lo rivuoi. Quindi non me la prendo con De Frel, ha fatto la sua scelta, è un professionista, fa quello che vuole. Me la prendo con la dirigenza, in questo caso con il presidente Massimo Ferrero. Con lui me la prendo. Dove ieri sera aveva promesso che sarebbe arrivato De Frel, ok? Non è arrivato e adesso sembra che si puntano forte su Simeone e Rigoni, sì. Arriveranno? No, non arriveranno. Non arriveranno neanche questi, non arriva nessuno. Adesso, oggi è trappelata la cosa che comunque adesso ormai su tutti i titoli, dove Vialli col suo gruppo al completo sono a Genova e il Pagliaccio naturalmente ha già smentito del fatto che è una visita informale, no? Una visita informale. Sono venuti comunque a mangiarsi un pezzo di focaccia a testa qui, giusto per quello. Non per altro. Adesso qui Sport Italia dice che comunque resta una, come si dice, una differenza praticamente tra quello che chiede Ferrero e quello che offrono, una forbice di 10-15 milioni. Una forbice di 10-15 milioni. Ora, c'è chi dice, ma è possibile che questi 10 milioni o 15 non riescono a sganciarli in più? Prima non sappiamo le cose. Prima non le sappiamo. E poi comunque bisogna dare, comunque, queste gente seria non sono dei ciarlatani. Questa gente seria. Quindi quello che va a comprare, prima giustamente lo vede, lo valuta, e poi ti offre. Sicuramente, se hanno fatto un'offerta del genere e non arrivano di più, e non arrivano di più, Garrone l'ha regalata la Sampdoria a questo personaggio. E se Garrone avesse potere, avesse potere come è stato detto in questi anni, a quest'ora potrebbe mettere parole, invece noi, l'ha proprio regalata. Poi, ripeto, non voglio mettere, becco in altre cose perché i meriti non ce li ha Ferrero, ce li hanno i suoi collaboratori per come sono andati questi anni. Ce li hanno i suoi collaboratori, la Sampdoria si è rialzata rispetto a quello che era Garrone, ma non grazie a Ferrero, perché lui di calcio non ci capisce niente. L'ha sempre detto anche lui, che di calcio non ci capisce niente. Quindi, rimane questa forbice di 10-15 milioni, ma oltre a questo, il mercato 5 giorni chiude, 5 giorni, De Frey non arriva. De Frey doveva arrivare, ha detto il pagliaccio, e non arriva, ok? Adesso si butta forte su Simeone e Rigoni, ma io ci devo credere, ma io non credo più a niente, io ormai non credo più a niente. Perché se arrivasse questa gente qui, comunque anche questi due, alla fine, per quello che chiedeva di Francesco, non bastano. Per quello che chiedeva di Francesco, e per come siamo sul mercato, questi due non bastano, ma non arriveranno neanche questi due. Io me l'auguro che arrivano. ma se il pagliaccio ieri ha detto di De Frey così, era sicuro, e comunque oggi i tre acquisti devono essere fatti, sono quasi le nove di sera, e questo ancora non succede, non succede niente. Stiamo a vedere, io non ci capisco più niente, sono solo che non lo voglio più vedere, non lo voglio più vedere, non lo voglio più vedere. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao a tutti.